Compagnia Lampo, compagnia Lampo da che parte sale? Bene, prego, come se devi? Lampo, ingorgo sulla scala, premierà Re Carnevale, questi gruppi, come sempre, no? Lampo, gruppo Aiglio, oh la gaccia fa paura da recarmi vai, grazie Della Aida, secondo gruppo, premia il sindaco, Laura Marzi streghe belle con la scopa Senza scopa Terzo gruppo, sempre Lampo, balletto dei pipistrelli, premia la nostra madrina Grazie! Grazie! Grazie!